Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Non posso guardare. Già le lame erano spaventose. Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura in qualche luogo fantastico. Magari la mamma ci va che ci divertissimo un po'. Tutto ciò che abbiamo visto è fatto. Forse è un suo dono. All'avventura in qualche luogo fantastico. 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 Grazie. Grazie. Guarda, la trappola dei venti. Ah, ingegnoso. La runa sta scendendo. Che succede? Trappola. Padre. Ragazzo, battene via. Io sto bene. Come ti liberiamo? Tira le catene sul muro. Ma ce ne sono tre. Che cosa faccio? Atreus, calma. Puoi farcela. Spregati. Non so ancora se posso affogare. Ok. Ati è accettato. Rincorre la luna. Skull è dorato. Insegue il sole. Per scatenare il ragazzo, devono divorare. Ma non sono i coni. Bravo. La luna va a sinistra. Il sole a destra. Il Midgard al centro. Quale leva a te? Al centro. Al centro. Su. Quella a destra. Vanno in ordine. Luna a sinistra. Sole a destra. Al centro. Destra. Luna a sinistra. Sole a destra. Midgard al centro. A destra. A destra. Al centro. Al centro. Su. Luna a Midgard. Destra. Al centro. Al centro. Al centro. Su. A sinistra. Al centro. Su. Madre no. Padre, no! Quella a destra! Al centro! Sinistra! Vanno in ordine! Al centro! Su! Quella a destra! Una a sinistra! Sono a destra, mi piccata! Al centro! Al centro! Al centro! Su! A sinistra! Luna Midgard su! Luna Midgard su! Pensa! Arbata! Ma non posso affogli! Buono a sapersi! Non fermiamoci! Ehi! Fa quella grande catena! Padre! Sopra! Sopra! Ragazzo! Ferma quella catena! Come? Non lo so! So cosa fa! Il pugnale! Non c'è altro modo! Non funziona! Doveva funzionare! Il pugnale! Lo so! Ma ti ha salvato! Sei stato astuto!